Il dato più interessante è che torniamo a crescere agli stessi livelli delle altre economie avanzate, degli Stati Uniti, della Germania, una crescita superiore a quella della Francia, quindi diciamo che il nostro sistema industriale, ma più in generale il nostro tessuto economico, è tornato ai livelli di competitività delle altre economie avanzate. A cosa dobbiamo questi numeri? Da un lato c'è l'industria che continua a crescere, in particolare crescono quelle imprese manifatturiere che hanno una forte vocazione al commercio con l'estero. Dall'altro c'è una tenuta e una crescita anche del settore delle costruzioni, in particolare di quelle piccole imprese che si occupano soprattutto dell'attività di ristrutturazione e c'è una buona tenuta anche del terziario e dei servizi. Vanno bene quelle imprese che hanno proseguito ad investire, che hanno una forte vocazione sui mercati esteri, quindi esportano e che puntano molto sulla qualità e sugli investimenti delle proprie persone all'interno, cioè investono sulle persone.